Ho sentito alcuni in quest'Aula e fuori da quest'Aula parlare di svolta autoritaria con questa riforma. Ecco, questa è un'allucinazione e come tutte le allucinazioni non possono essere smentite con la forza della ragione, perché resta un'allucinazione. Non c'è niente di autoritario nel superamento del bicameralismo perfetto, non c'è niente di autoritario nella riforma del titolo V, non c'è niente di autoritario nell'abolizione del CNEL. Un grande statista, che è stato anche un grande presidente di questa Assemblea, che ha un riferimento per tante donne e uomini della mia terra, compreso mio padre, Amentore Fanfani, ha detto una piccola grande verità. Le bugie in politica non servono. Allora, si può essere d'accordo o non d'accordo con questa riforma costituzionale, si può votare o non votare questa riforma costituzionale, si può condividere o meno l'attività del Governo. Ma parlare di svolta illiberale di questo Paese per la presentazione di questa riforma è una bugia e le bugie in politica non servono.